La città di Sulmona si appresta a vivere il fascino del dressage, la disciplina dove cavallo e cavaliere eseguono movimenti prevalentemente geometrici con la musica. Teatro dell'evento, denominato primo concorso nazionale di dressage, trofeo giostra cavaleresca, sarà il campo di gara di Piazza Maggiore nelle giornate di martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto. Penso che per la città sia veramente qualcosa di unico perché il dressage di solito viene fatto in campi attrezzati adeguatamente, un campo come questo in uno scenario come la nostra città è un evento veramente unico, veder ballare i cavalli a suon di musica credo che sia qualcosa di veramente spettacolare. Così Maurizio Antonini che a nome di tutta l'associazione giostra cavaleresca esprime soddisfazione per essersi assicurato una manifestazione prestigiosa riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Equestri che si svolgerà a Sulmona dopo l'esperienza di dieci anni fa in piazza del plebiscito a Napoli. L'iniziativa è nata grazie all'istruttore di equitazione Massimo Ciolli che ha preso contatti con la giostra cavaleresca tramite la sulmonese Mary Grimaldi. Il programma illustrato in conferenza stampa dalle associazioni giostra cavaleresca e HS e alla presenza del presidente regionale della FISE Rocco De Nicola prevede martedì 31 luglio alle 16.30 una partita di horse ball cioè la palacanestro giocata a cavallo e per i bambini ci sarà la possibilità di salire sui poni. A seguire partiranno le riprese di dressage con il trofeo del cavallo iberico. Mercoledì 1 agosto alle 16.30 spazio alla Gincanaponi per bambini dai 10 ai 16 anni per proseguire con la fase finale del concorso di dressage. Saranno delle giornate intense, saranno delle giornate bellissime all'insegna dell'equitazione, all'insegna di uno scenario stupendo. L'ingresso in piazza maggiore sarà gratuito ed ogni partecipante verrà abbinato a un borgo sestiere cittadino. Le iniziative che la giostra mette insieme sono importanti perché arricchiscono la manifestazione. Questa dei cavalli è una cosa bellissima, quel cavallo è elegante e quindi è un ulteriore fiore che ci mettiamo all'occhiello di questa grande manifestazione.